Eccoci qua, allora facciamo un po' il resoconto di questa gara Swiss Peak 170, 170 km, 11.500 metri di dislivello, mi sono fermato, ritirato dopo 81 km e 6.200 metri di dislivello, problema ai quadricipiti, iniziamo da capo. Allora, partenza 8 di mattina, piove. La gara è stata spostata, la partenza è stata spostata, in quanto c'era un passaggio reso pericoloso dall'acqua e dunque già la partenza avviene in un altro posto. Partiamo, tutto funziona bene, pioverà fino circa alle 5 del pomeriggio, in serata si inizia una salita di 1500 metri di dislivello, con una parte di alpinismo quasi, che è la fenêtre de arpet, conosciuta in vallese. E già lì è buio, si sale, lampada frontale, ci sono macini, sassi abbastanza grandi da scalare per arrivare su in cima. Mette sicuramente a dura prova i nostri muscoli. Arrivati su c'è la discesa, si torna giù e abbiamo 1500 metri di dislivello negativo. Allora, di nuovo rocce e terreno scivoloso, visto che ha piovuto per tutto il giorno. E discesa ripidissima, dunque non si può correre e i quadricipiti lavorano ancora di più. Alla fine di questa discesa tutto sembra andare più o meno bene e poi ricominciano altre salite e poi inizio a vedere che i quadricipiti non funzionano più, il dolore è molto forte, ma continuo ad andare oltre il dolore e si va avanti. Si va avanti, si cerca di alimentarsi bene con il cibo che avevo con me, con zuccheri rapidi, proteine e grassi. Però il dolore è sempre più forte e dunque si arriva a un ristoro che è a 12 km prima della base vita e a quel ristoro mancano quattro ore per entrare nei tempi prefissati, nella barriera oraria, per poter poi ricominciare la seconda parte della gara. Mi faccio delle domande, non sono convinto di partire perché i quadricipiti veramente fanno male. Alla fine decido comunque di andare, allora salita di un 700 metri di slivello, quella va bene su 3 km e poi ci sono 9 km e siamo di notte alle 4 di mattina, ho partito verso le 4 di mattina da quel ristoro, dovevo arrivare alle 8 alla stazione base vita e tutta la discesa l'ho fatta camminando. Il dolore era sempre presente, faceva male ad ogni appoggio e avevo un ritmo in discesa di 23 minuti al chilometro. È una cosa inconcepibile, scendere a questa velocità non si arriva da nessuna parte eppure non posso fare altrimenti. Mi aiuto con i bastoni per l'appoggio, per scendere, ma ogni volta che c'è una leggera pendenza in discesa ce n'è quasi sempre, devo rallentare e dunque arriverò alle 8 e mezza alla stazione base vita dove in teoria avrei dovuto rifornirmi di nuovi zuccheri, fare una doccia eventualmente ripartire per il restante dei chilometri e arrivo dopo 40 minuti e dunque la barriera oraria è stata superata, non avrei potuto continuare ma non sarei ripartito comunque, non era più possibile, non ce la facevo più. E allora la questione è come mai questi quadricipiti non andavano. Di sicuro quando uno si ritira da una gara è perché non era pronto, non era allenato abbastanza e in questi ultimi due mesi mi rendo conto che non ho fatto abbastanza chilometraggio, né in salita né in discesa. Potevo farne di più? Sì e no. Abbiamo tutti i nostri impegni, le nostre responsabilità e dunque questa è la prima cosa che mi viene da dire. Però se penso che a giugno avevo fatto una 120 chilometri con 8500 di dislivello e l'ho portata a termine dopo 31 ore e mezzo e non avevo avuto questo problema ai quadricipiti è vero mi ero allenato anche di più però ciò non spiega tutto e adesso la domanda è aperta quale sono le cause di questo problema ai quadricipiti. Al di là di questo lasciamo stare questa situazione muscolare l'impressione dopo queste 24 ore e 40 di corsa è che camminando nella natura andando oltre i tuoi limiti stando nel silenzio mi sono resettato è come se sono entrato di più dentro di me e ho acquisito sicuramente tantissime emozioni tantissime belle sensazioni nella natura natura grezza brulla di montagne meravigliose le chiacchierate con altri corridori durante la gara scambio di conoscenza sostegno reciproco ognuno motivava l'altro anche se meno che in altre gare in questa gara ho trovato che tutti erano un po' più dentro il loro sforzo probabilmente perché è una gara veramente massacrante e distruttiva che domanda molta concentrazione e centratura e dunque eccomi qua sono passate qualche ore adesso è passato un giorno l'obiettivo è quello di continuare ad andare avanti di fare quello che mi piace e adesso sto riflettendo su come muovermi nei prossimi anni mi piacerebbe fare anche delle gare più corte per un certo periodo gare di montagna qua nella regione del Ticino che sono organizzate molto bene il prezzo di iscrizione alle gare è modico è nella mia terra nella mia regione e dunque il nuovo anno che verrà sarà diciamo consacrato a corse montane di una decina di chilometri 20 chilometri 1000-2000 di dislivello perché è molto più semplice ciò ti permette di continuare la tua vita quotidiana le tue responsabilità di genitore e dunque prepararti hai tempo per prepararti come lo vuoi cosa invece diversa se devi allenarti 80 chilometri devi stare fuori almeno 20 ore 15 ore fare lunghi allenamenti non mi è possibile a livello proprio materiale di tempo fare questa preparazione diciamo sufficiente per portare a termine una gara come la Swisspeak 170 dunque se ti vuoi iscrivere alla Swisspeak 170 fa in modo di fare regolarmente dei dislivelli di 5000 metri in salita e 5000 metri in discesa in un giorno in due giorni o fare tre giorni di seguito 30 chilometri con ogni volta 2000 metri di dislivello in modo da prepararti perché il corpo ti dà quello che lui ha imparato se hai imparato a fare un dislivello di 1000 metri e 20 chilometri beh sicuramente avrai difficoltà a farne molti di più anche se ti ripeti in una settimana alla fine se vuoi fare 11.500 metri di dislivello con 170 chilometri fai in modo di allenarti varie volte 17 chilometri con 1000 metri di dislivello li puoi anche sommare alla fine il tuo corpo registra questo sforzo e poi è pronto per uno sforzo simile ci sono vari modi dunque per allenarsi puoi fare un'uscita alla settimana di 40 chilometri con 3000 metri di dislivello lo fai per alcune settimane di seguito puoi fare 4 uscite alla settimana con 1500 di dislivello e 25 chilometri puoi fare una volta al mese gli 80 chilometri con 6000 di dislivello beh vedi poi tu puoi fare delle ripetute d'accordo questo è quanto mi viene da dire per il resto i paesaggi sono meravigliosi questo è il monte generoso a Mendrisio e quando vedi questa bellezza della natura vedi la bellezza che è anche dentro di te la natura come specchio il più bel specchio di te stesso di fronte alla natura non ci sono alibi non ci sono scuse non c'è quella mente che dice sì sì sono pronto di fronte alla natura o ce la fai o ti fermi perché lei non si fermerà lei continuerà a darti quello che è lei non è come noi che un giorno ti dà e un altro giorno ti toglie la natura ti dà sempre quello che è se piove sarà una natura diversa se fa molto caldo la natura sarà diversa ma sarà sempre lo stesso dislivello sia positivo che negativo saranno sempre gli stessi chilometri sicuramente correre sul bagnato è diverso soprattutto in discesa se tu devi stare attento ad ogni appoggio perché rischi di scivolare perché il suolo è fangoso i muscoli lavoreranno in un altro modo ed ecco qua una spiegazione anche plausibile del perché i quadricipiti del sottoscritto anche se sotto non c'è scritto niente hanno urlato di dolore e dunque allenati sia sotto il sole cocente allenati anche quando piove non startene a casa se è questa la tua passione e poi da ogni esperienza nascerà qualcosa di nuovo da questa esperienza nasce la voglia di essere almeno forte come lo è la natura come quella natura che ho incontrato allora il giorno che potrò per fare una gara del genere in un posto come quello che era questa gara mi allenerò in quel posto in una zona simile e questo sarà per un futuro un po' più lontano quando le tempistiche saranno perfette che dire d'altro per me arrivare alla fine degli 81 chilometri era arrivare alla fine della gara della mia gara la mia gara terminava lì 12 chilometri prima avevo già deciso che avrei smesso e dunque sono partito per gli ultimi 12 chilometri non consapevole di quanto sarebbe stata difficile impegnativa dura quell'ultima discesa eppure all'arrivo era come quando sono arrivato alla fine della gara del Senic Trail 130 di questo giugno gara che si svolge in Ticino che parte da Tesserete anche lì avevo passato in quel caso eravamo partiti la notte e dunque avevo fatto due notti ma mi sono ritrovato all'arrivo di questa gara come quella mattina presto quando avevo terminato i 120 chilometri e ricevuto la medaglia di Finisher una grande soddisfazione essere andato oltre quelle difficoltà quei problemi fisici e quel dolore che mi attenaliava già da più di dieci ore e la soddisfazione enorme ritirarsi da una gara non vuol dire non terminarla io l'ho terminata a 81 chilometri qualcuno a 20 qualcuno a 10 qualcuno a 100 qualcuno a 150 qualcuno a 170 il corpo mi ha dato questo verdetto ero pronto per una gara di 81 chilometri 6500 metri di dislivello e da sottolineare le ottime condizioni dei piedi malgrado che l'acqua era entrata nella scarpa e le calze erano bagnate ho preso diciamo i provvedimenti giusti in preparazione prima e poi anche durante la corsa qualche giorno prima della corsa ho messo a posto i piedi tolto le callosità i duroni e massaggiato con la crema di zinco sempre l'ho messa anche prima della partenza e quello sicuramente mi ha aiutato a non far scollare la pelle non avere vesciche o altro e allora la soddisfazione è anche grande perché lì ho fatto un passo avanti mi sono migliorato nella preparazione a livello dell'igiene dei miei piedi e questo qua è qualcosa che porto con me come un nuovo bagaglio di conoscenza e per il resto come da ogni esperienza si impara qualcosa e metterò a buon frutto quello che ho vissuto e quello che mi ha dato questa corsa io ti saluto Aug se ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti il solito mi piace monotono mi piace ma questo è il tono della società è monotono è un tono unico abbastanza moscio mentre quello che tu vivi le esperienze che tu vivi sono delle melodie meravigliose questa gara è stata plasmata dalla melodia della natura a dire il vero pochi uccellini ho sentito cantare ma probabilmente a quell'altezza ce ne sono pochi e per il resto in bocca al lupo rispetto alla natura rispetto alla tua natura un abbraccio ciao